Book, modello disegnato da Tom Maio, guai mia, guancette completamente in titanio, disegno classico di Tom Maio, frame lock, coltello è abbastanza comodo per essere utilizzato tutti i giorni, presenta un leggero rialzamento tipo guardia all'imbocatore della lama, l'apertura è ad una mano, si presenta abbastanza bene ed è fatto molto molto bene. L'unico handicap che ho riscontrato è che come vedete la clip fa uno svolto troppo piccolo ed essendo dura non si riesce a infiarla bene in tasca, quindi io consiglio lo smontaggio della clip per piegare un pochino la parte del fondo. L'acciaio utilizzato per la mano, per la lama è il CPM-S30V temperata da boss come potete vedere, back, sicurezza frame lock, coltello si apre e chiude molto bene e come diceva effettivamente delle dimensioni giuste per essere un EDC. Falso controfilo, il coltello taglia abbastanza bene già di fabbrica, inoltre essendo tutto in titanio è anche abbastanza leggero, un concorrente del Mini Sebenza.